Ciao, sono Luciano Regoli della raccomandata ricevuta di ritorno, quello che state vedendo è il videoclip del mio ultimo lavoro uscito a febbraio, il pittore Volante. La raccomandata dopo 36 anni ritorna sulle scene per merito anche mio, che sono riuscito a coinvolgere vecchi musicisti degli anni settanta che avevano fatto il mio primo album, come Nanni Cilidenga oggi è un bassista di Ennio Morricone, Claudio Simonetti che aveva suonato con me con il ritratto di Dorian Gray e musicisti anche internazionali come Carter Ryan dei Supertramp e io credo che oggi sia importante che la musica progressiva ritorni in scena, perché tanto ha dato alla musica italiana dopo gli anni settanta, ha creato musicisti importanti, produttori importanti e gente nell'ambiente che insomma ha fatto tutta la musica italiana negli anni 80, 90 e poi quindi adesso è importante che ritorni su tutti i palchi e nei teatri italiani e io spero che la raccomandata ricevuta di ritorno anche con l'associazione Live Aid possa fare delle belle performance e ritornare a suonare. Grazie.